Verona ospita il raduno delle Camere di Commercio italiane all'estero e oggi l'intervento del ministro, il leghista Centinaio, è stato l'occasione per un punto sulle infrastrutture veronesi e si è parlato anche di Catullo. Le infrastrutture vanno realizzate magari con un occhio di riguardo per quelle che servono davvero rispetto a progetti meno concreti e tra i volani per l'economia e il turismo ci sono anche gli aeroporti ma di respiro internazionale. La convention delle Camere di Commercio italiane all'estero, ospitata da ieri e fino a domani nell'ente camerale veronese, è stata l'occasione per fare il punto sulle grandi opere con l'intervento del ministro per l'agricoltura e il turismo Gianmarco Centinaio, soffermatosi anche su temi scaligeri. Il ministro, lei è stato chiaro sulle infrastrutture, ha detto quelle che servono vanno fatte, Verona aspetta la TAV. Quelle che servono vanno fatte, io penso che è giusto che ci sia in una maggioranza di governo appena creata ci sia dibattito, ma nel momento in cui si decide che un'infrastruttura deve essere fatta bisogna andare avanti il più velocemente possibile. Sulla TAV sapete qual è la mia opinione, quindi. Io penso che Verona debba diventare uno degli aeroporti più importanti del nord Italia, perché comunque da Verona passa un sistema di autostrade importanti, da Verona è uno dei centri comunque anche a livello sia imprenditoriale che turistico più importanti del nostro paese e di conseguenza non possiamo avere un aeroporto solo per le low cost, bisogna avere anche un aeroporto un po' più di respiro internazionale. Il Catullo vive però la situazione delicata dei soci pubblici con la società che li raggruppa, Aerogest, a rischio di scioglimento per i tre, sia pur leggeri, passivi di bilancio consecutivi, cosa che potrebbe spianare la strada all'aumento di peso del socio privato SAVE. Ma i soci pubblici veronesi stanno preparando una risposta al Ministero in cui sostengono di poter mantenere viva la società e partecipare così al prossimo aumento di capitale, anche se il ruolo del privato resta indispensabile. Stiamo lavorando in questa direzione, è evidente che dobbiamo ricordare che se le strutture di quelle entità sono detenute dal pubblico e il pubblico è incastrato in una burocrazia impressionante e nella non possibilità di investire questo non si potrà mai realizzare, per cui bisogna anche pensare che d'ora in poi questo deve essere anche un cambiamento. Il pubblico deve controllare che i privati facciano bene, che rispettino le regole e rispettino le leggi e quindi deve essere molto presente, ma poi largo al privato. Quanto alle Camere di Commercio italiane all'estero si tratta di una rete che in un triennio ha quasi raddoppiato i fondi riconosciuti per le iniziative realizzate, arrivati a sfiorare 9 milioni di euro, in gran parte a sostegno del Made in Italy, che ha scandito centinaio. Deve parlare con una sola voce agli interlocutori esteri.